Dò gli occhi al cielo, recitò su di esser la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li sicurissero alla forza. Tutti mangiavano in sozietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Parola del Signore. Glorie a me e a tutti. L'amore di vita abbiamo ascoltato e gesti d'amore venendo tra noi, la nostra speranza è un pane speciale, la nostra certezza, l'amore di Dio.